Carissimo Nivardo, a voi, abitanti di Cesenatico, un augurio, un auspicio che continui a governare il centro-sinistra che è tanto adatto alla vostra città. Tutto il mio sostegno per Nivardo Panzavolta, perché possa vincere il ballottaggio domenica e lunedì, perché possa continuare nella sua opera per governare Cesenatico con la competenza, la determinazione e la passione che ha mostrato in questi anni. Grazie per la visione!